Ciao ragazzi, da 20 minuti si è conclusa la partita, il JVC Stadium, Atalanta-Juventus è finita 1-1, punto alla fine che ci va bene per come si era messa la partita. Diciamo Juve, bella partita, ha fatto una bella partita, atteggiamento giusto, abbiamo sbagliato tanto però davanti. Poi nel secondo tempo Malinoski si mette un grandissimo gol da circa 30 metri di distanza, ma alla fine al 93esimo Di Bala da calcio d'angolo direttamente, da tanto tempo che si vedeva un gol direttamente da calcio d'angolo, Di Bala, calcio d'angolo, testa di Danilo e in sacca al minuto 92. La Juve mantiene due punti di distacco sopra l'Atalanta però con gli Orobici che devono recuperare la partita contro il Torino. Torino che noi affronteremo venerdì sera nel derby senza lo stesso Danilo, oggi a Monito ed era diffidato quindi salterà la partita, il derby contro il Granata. 1-1 è un punto che ci prendiamo volentieri, la sconfitta non sarebbe stata giusta stasera perché abbiamo visto, io personalmente ho visto una buonissima Juve. Migliore in campo in assoluto De Litt che ha salvato due gol nel primo tempo, potremmo prendere due gol e De Litt ha giganteggiato. E grande partita anche di Morata, peggiori in campo ahimè il nuovo arrivato Dusan Blavic. Ma però ragazzi purtroppo da lui non si può pretendere che faccia gol o doppietta tutte le partite. Oggi gli è andata male, purtroppo è giusto che si prenda la palma del peggiori in campo. Ciao ragazzi, sempre Forza Juve.